Il leader della Lega a Varsavia il 3-4 dicembre, dalla Calabria, dove da pochi giorni si è formata la nuova giunta regionale di centrodestra, attacca ancora la Morgese, più che vietare i cortei fermi gli sbarchi. Spirli avrà un ruolo nazionale nel partito. Matteo Salvini andrà in Polonia perché ai confini dell'Europa sta succedendo qualcosa di pericoloso, di estremamente pericoloso. Il presidente di PiS, diritto e giustizia, Jaroslo Kaczynski ha infatti invitato il leader leghista a Varsavia il 3-4 dicembre. Un'occasione per discutere di nuovi equilibri a Bruxelles, ma soprattutto per affrontare il tema della difesa delle frontiere europee, fanno sapere dal carroccio. L'annuncio del leader della Lega arriva da Catanzaro, dove ha tenuto una conferenza stampa e ha attaccato, ancora una volta, la ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Più che vietare i cortei preferirei un ministro che vietasse gli sbarchi dice l'ex ministro Andrò, a proposito di controllo del territorio e dei confini e di rischi legati all'immigrazione clandestina, nelle prossime settimane in Polonia perché ai confini dell'Europa sta succedendo qualcosa di estremamente pericoloso. Detto questo, Calabria e Sicilia aggiunge non possono avere sbarchi fuori controllo. Io attendo da ormai cinque mesi un incontro col ministro Lamorgese che si vede è impegnata a fare altro. Però non è possibile, ormai siamo quasi a quota 60.000. A Catanzaro inoltre Salvini indossa la maglia della Tunisia mandata agli da Gali il rapper con cui ha avuto uno scontro a San Siro che l'ha anche autografata. Un dono quello del cantante, offerto al leader leghista in segno di distensione, sono pronto ad incontrare Gali ad offrirgli un caffè o un cappuccino, e chiarire. Siamo entrambi milanesi, penso della stessa zona. Non sapevo chi fosse prima che mi insultasse allo stadio, vivo tranquillo, mi è dispiaciuto perché ero con mio figlio che mi diceva questo cosa vuole. Lui lo conosceva musicalmente, io no, è rimasto dispiaciuto anche mio figlio, dice Salvini che ha apprezzato il gesto di Gali. È un momento così complicato per gli italiani ha poi aggiunto perché quindi perdersi in insulti allo stadio. Ha chiesto scusa, amici come prima. Grazie a tutti.